Azzerare la tossicità dei rifiuti, ridimensionarne il loro volume, convertire i rifiuti in energia, abbassare i costi di conferimento e soprattutto gli importi delle bollette per i cittadini. Di questo si è discussi in un convegno studio a Patti nel contesto di un'applicazione pilota del progetto Converter, promotore dell'iniziativa e il consorzio stabile Cassiopea, al tavolo tecnici, politici e sindaci in un momento in cui si fronteggia l'emergenza rifiuti ai costi del servizio di igiene ambientale. Cassiopea nasce con l'idea di sviluppo progettuale green in tutti i vari settori. La cosa che ci ha colpito inizialmente è stato proprio un problema che è agli occhi di tutti, che si tratta dei rifiuti che vengono purtroppo oggi trattati con costi onerosi e senza rispetto per l'ambiente, anche dai cittadini diciamo che oltre da chi gestisce questo prodotto. Noi abbiamo deciso di iniziare dal territorio, territorio direttamente con un contatto diretto con i sindaci perché i sindaci sono le persone che vivono quotidianamente questo problema, problema che oltre che di aspetto economico anche ambientale. Speriamo che con questa iniziativa possiamo dare un input alla Sicilia, parlo della Sicilia in quanto noi riteniamo che è una regione che ha le caratteristiche, le possibilità, le capacità e le professionalità per poter cambiare questo metodo ad oggi di trattamento di questo rifiuto. A chi non viene e chi non segue questo convegno dico che perde un'opportunità per risolvere il problema di gestione finanziaria del comune e ambientale per la terra. Cassiopeia è nato con il 110, con l'eco bonus ma avendo sempre come orizzonte principale tutto il settore del green, del verde e quindi inevitabilmente non potevamo allontanarci dal settore del trattamento dei rifiuti che è un problema fondamentale soprattutto nella nostra terra d'origine quindi qui in Sicilia. Questa tecnologia che abbiamo scoperto, usiamo proprio questo termine, incontrando gli amici dell'OMPECO, ci ha stupito perché secondo noi sarà veramente l'innovazione risolutiva. Può essere un modo per non solo eliminare il gravoso problema dei rifiuti per le pubbliche amministrazioni, poter andare incontro alla saturazione delle discariche ma anche per poter andare incontro a un abbassamento degli oneri, delle tasse a carico della cittadinanza che in questi tempi è una cosa fondamentale. Quindi diciamo c'è tutto un discorso che parte dall'economia green, dal voler tutelare il nostro patrimonio, il nostro paese, le nostre zone fino ad arrivare a un discorso di risparmio nelle tasche della singola domestica o del singolo lavoratore. Il prossimo step sarà dopo aver coinvolto le amministrazioni, noi siamo partiti, usiamo questo termine dal basso, abbiamo voluto avere a che fare con i sindaci, coloro che si confrontano quotidianamente con questo problema e lo affronto ogni mattina ma non è un modo di dire proprio così. Il prossimo passo sarà una volta professata la parola, passatemi questo termine, sarà di far vedere realmente con una prossima installazione dei primi macchinari il vero funzionamento del converter. Il rifiuto, sempre considerato come problema e soprattutto un prodotto inquinante, viene stravolto con un sistema di trasformazione del rifiuto in fluff che non è altro che un idrocarburo in polvere e che ha la possibilità di poter produrre energia tramite vari sistemi, cioè tramite un smoldering e produrre vapore e di conseguenza con una turbina a vapore produrre direttamente energia oppure con un processo di bioraffineria arrivare a ottenere un biocarburante. Il rifiuto viene ridotto dell'80% nel suo volume e del 50% del peso, perciò si riesce a ottimizzare negli spazi e nei pesi nel caso appunto di trasporto, utilizzando normali mezzi tipo furgoni e comunque non mezzi con ADR specializzati per quel tipo di trasporto, ma soprattutto il fluff viene completamente sterilizzato, perciò da rifiuti tossici, ospedalieri eccetera, oltre a riduzione di peso, volume eccetera, ma soprattutto non è più tossico, è perfettamente sterile. Mekite, dato che si occupa di energie da fonte rinnovabile, sfrutta il sistema di trasformazione dei rifiuti in fluff per poter ottenere energie rinnovabili e soprattutto trasformarle in idrogeno, nel caso appunto che l'utilizzo finale sia questo. Diversamente abbiamo la possibilità di avere energia elettrica da poter cedere in rete e supportare anche l'energia che serve per poter fare il processo di trasformazione del converter. Una grande opportunità è un grande futuro. Se pensiamo che in Italia sono installati 21 milioni di kilowatt da fotovoltaico, in Germania 50 milioni, è un'aberrazione, qualcosa che non ci possiamo più permettere. Le comunità energetiche sono una grande opportunità sia per i cittadini e le comunità di cittadini che si vogliono riunire, sia per le pubbliche amministrazioni, per ottenere tantissimi vantaggi. Una diminuzione del costo dell'energia e soprattutto una produzione distribuita che può contribuire all'eliminazione di quelle che sono gli impatti devastanti delle grandi centrali termoelettriche. Il prossimo step? Il prossimo step è quello di affondare i progetti e calarli nelle singole realtà, nelle pubbliche amministrazioni, in quelli che sono e che possiamo individuare quali sono le sacche di spreco energetico più significative per ridurre i consumi e fornire quel doppio binario di green e convenienza economica. La sensibilità rispetto a questi temi sta crescendo moltissimo e devo dire che è il consorzio per la propria credibilità e per una consolidata relazione con le tecnologie più avanzate nel settore. Non a caso il converter di cui parleremo oggi è stato brevettato al Politecnico di Torino. Queste tecnologie cominciano ad avere una riconoscibilità anche sul territorio, mentre in passato venivano considerate quasi delle scelte d'elite. Oggi, per fortuna, la sensibilità ambientale che c'è, sempre più diffusa, perché i livelli di inquinamento al nord molte volte raggiungono dei livelli intollerabili. A prescindere dall'economicità degli interventi, che come sempre è quella che determina poi le scelte economiche, ritengo che quello che ha detto il Presidente Draghi venti giorni fa sia stato molto importante. Cioè, imprenditori, professionisti, amministratori hanno una responsabilità che va al di là della pura valutazione economica dei vari interventi. E in questo caso ci troviamo di fronte ad una circostanza in cui questi due poli che a volte si contraddicono, quello dell'ambiente e quello dell'economicità, vanno d'accordo e vanno molto d'accordo. La nostra idea di base è che il rifiuto sia un oggetto molto pericoloso e che vada disattivato immediatamente appena viene prodotto. I nostri clienti tipici sono le marine militari di tutto il mondo, che sono ovviamente quelli che si preoccupano di più della salute dei loro equipaggi. E poi nelle cliniche ospedaliere abbiamo anche un settore civile abbastanza importante, soprattutto nei paesi più evoluti come la Gran Bretagna. La prima delle tecnologie che normalmente utilizziamo è proprio questa, è una macchina che trasforma, converte un rifiuto talquale, in qualunque forma lui sia. Non è importante se arriva da un processo di raccolta differenziata piuttosto che un talquale puro e lo converte in una polvere inerte, sterilizzata, omogenea, che ha caratteristiche di un combustibile solido. Quando uno ha un combustibile solido di questo tipo, questo combustibile solido ha una denominazione di combustibile rinnovabile, non è quindi un combustibile tipo fossile e può essere trasformato come tutti i combustibili in diverse cose. Abbiamo tre possibilità, essenzialmente la prima è la sua trasformazione in energia elettrica, la seconda è la sua trasformazione in un idrocarburo puro, in realtà è un diesel più che una nafta, è un po' più puro della nafta, quindi bruciato ha un effetto molto migliore sull'ambiente, oppure può essere trasformato in idrogeno e ossigeno che sono un po' la nuova richiesta di mercato che abbiamo in questo momento, abbiamo la tecnologia per la sua trasformazione anche in idrogeno e in ossigeno. Onpeco è una società molto innovativa nel campo degli impianti di trattamento dei rifiuti che lavora in tutto il mondo, soprattutto nel settore militare, civile e clinico. Oggi, avendo a che fare con i numeri, le amministrazioni debbono fare dell'economia all'interno e non è sempre facile, tra l'altro tutte le partite che loro hanno come commessa nei vari conti economici e si trascinano sono quasi sempre intoccabili o leggermente modificabili, si possono dimare. Qui invece si parla di una serie di possibilità di verticalizzare una serie di conti che potrebbero veramente essere destinate ad altri servizi per la cittadinanza. Un'operazione di questo tipo, per come è stata prospettata e per come sicuramente sarà portata avanti, perché solo mancanza di intuito potrebbe accantonare qualcosa che è evidente, riesce a abbattere non solo dei costi di smaltimento, ma anche dei costi di trasporti. Cioè basta eliminare con un fatto aritmetico il costo del trasporto rispetto a quello della gestione dello smaltimento e si capisce che si farà una serie di economie per gli antivocali saranno importanti. Sulla bolletta ci sarà non un risparmio, ci sarà veramente una elisione, cioè la bolletta sarà totalmente mutata, cambiata in importi e vantaggi che oggi possono solo essere moltiplicabili all'ennesima potenza. Nel senso che, vi faccio un esempio, io vivo in un piccolo paese, quello di Saponara, una cittadina che ha fatto la differenziata tra le prime. Noi abbiamo avuto quintubricato il costo del smaltimento dei rifiuti e la nostra differenziata, che dovrebbe premiare come pregio invece, per esigenze, capisco di bilancio, non è colpa del sindaco, non è di altro, ma tutti i comuni sono combinati così, ha avuto un'impinata. Questo significerebbe ritornare a prima dell'indifferenziata godendo dello smaltimento dei rifiuti con questo nuovo metodo che è una generazione innovativa. Per dirla breve, sicuramente il consumatore finale, colui che utilizza l'obbligo dello smaltimento, perché alla fine è duplice la cosa, avrà un vantaggio, io credo, almeno dell'80-90% in meno di costi. Il Comune farà delle economie di costi a sua volta e potrà destinare altri servizi per la cittadinanza, cioè quello che ne andrà a beneficiare, siamo noi, siamo gli utenti finali. Di fronte a problematiche di questo genere, un convegno che vuole aprire nuove prospettive sulla problematica generale dei rifiuti che per noi come comuni, come enti locali è molto critica. Il momento è davvero difficile, sia perché dal punto di vista ambientale le problematiche e le criticità sono tante, ma soprattutto anche per le ricadute negative che hanno sulle famiglie, che ha una gestione molto faragginosa, molto, vorrei dire, insufficiente allo Stato. Quindi, allorquando si possono creare nuove prospettive, come dice questo convegno, per una gestione diversa dei rifiuti e per soluzioni che sono green, quindi rispettose dell'ambiente, ma che comunque rappresentano anche opportunità di economicità e di risparmi per le famiglie, risparmi di carattere economico-finanziario, io credo che sia doverosa la nostra presenza come istituzioni e mi auguro che da questo convegno possano uscire soluzioni. Abbiamo un costo ambientale che dobbiamo affrontare. Io, poc'anzi, parlando con alcuni colleghi, ricordavo che nel 1982 a Monaco già c'erano delle realtà ben diverse rispetto alle quali noi non ci siamo arrivati a distanza di parecchi anni. Siamo in maniera, diciamo, irragionevole troppo indietro. È necessario che la politica regionale dia una scossa a tutto e risolva la problematica, perché il singolo comune si muove in un labirinto, quindi le regole e le condizioni le stabiliscono loro. Non si tratta di voler scaricare il barile a qualcun altro. Noi facciamo la nostra parte, ma non possiamo stabilire ciò che non è di nostra competenza. Ho avuto la fortuna di avere da parte della società una brochure che descriveva proprio la tecnologia e penso che questa tecnologia possa essere utile e coerente ad un obiettivo di riduzione dei rifiuti con zero emissione. Oggi, sfortunatamente, ancora la regione non ci ha dato delle risposte. Dobbiamo cercarle noi, ahimè, o sindaci, tramite i comprensori, tramite i consorsi, tramite le unioni di comuni, tramite l'SRR, di trovare delle soluzioni logiche, delle soluzioni che siano veramente percorribili, perché oggi i costi sono arrivati alle stelle. Alla fine andranno tutti sul cittadino. Oggi la paghiamo come comuni, perché abbiamo difficoltà con i bilanci. Domani andranno comunque in tariffa nel PEF e andranno a carico dei cittadini, dei singoli cittadini. Quindi benvengano queste novità tecnologiche, sperando che siano presto, potenzialmente usufruibili da parte degli enti, dei comuni, ma sempre in un'ottica comprensoriale, perché credo che il problema dei rifiuti non lo può risolvere il comune di Librizi, come non lo può risolvere il comune, anche grande, che possa essere fatti, Sant'Agata o Barcellona.